Con la fine delle scuole e l'avvio della stagione estiva, parte in città un fitto programma di iniziative dedicate ai ragazzi. Da luglio a settembre attività sportive, ludiche e aggregative coinvolgeranno più di 20 scuole napoletane. Una programmazione congiunta tra l'assessorato alla scuola e quello al welfare del comune, che vuole garantire soprattutto alle famiglie in condizioni di disagio socio-economico la possibilità di vivere a pieno le opportunità offerte dal territorio. Quest'anno riusciamo a raggiungere oltre 3.000 bambini di età compresa tra i 3 e 18 anni in varie attività, quindi una pluralità anche di attività, di interventi e il coinvolgimento di tante realtà del territorio che ha vario titolo e anche per i bambini che invece possono consentirsi l'accesso a certi servizi, organizzano delle attività. Ci sono dei periodi residenziali nel centro polifunzionale di Marechiaro. Da 15 anni noi svolgiamo delle attività estive lì, in quella struttura meravigliosa. La novità in questo caso è che le attività poi verranno anche prolungate durante i 12 mesi dell'anno. Attività ricreative sono inoltre previste in alcune strutture convenzionate che a spese del comune accoglieranno per 6 ore al giorno fino ad un massimo di 1.200 ragazzi tra i 3 di 14 anni. Noi abbiamo delle risorse importanti, impegnate, che sono circa 5 milioni e mezzo, oltre 5 milioni e mezzo, per le attività che si svolgono da ottobre a giugno. Questo chiaramente consente anche a questi enti di proseguire eventualmente anche per le colonie in autonomia. Ci sono delle risorse che sono state già liquidate e che verranno proprio erogate nell'arco del mese di luglio, che sono oltre 3 milioni di euro proprio per i semi convitti, quindi relative alle attività del 2012. Saranno operativi i 22 centri di educativa territoriale che adegueranno la programmazione al periodo estivo offrendo balneazione, escursioni, sport acquatici e tornei di pallavolo e calcetto. Si ripete inoltre il progetto Scuola Estate che prevede la realizzazione nelle scuole di campi estivi in ciascuna municipalità. Sui singoli territori offriamo la possibilità di una rete di scuola di rimanere aperta per i mesi di luglio per accogliere gratuitamente, ovviamente con spese sostenute dal comune, da un minimo di 50 bambini in su. Un investimento di 160 mila euro e le reti che si sono costituite, 10 reti che si sono costituite, hanno coinvolto quest'anno ben 23 scuole, 24 scuole. Considerando che a Napoli ce ne sono 100, diciamo che siamo stati più bravi del Ministero che ha fatto un'esperienza pilota un po' in Italia ma non ne ha intercettate così tante. Sarà garantito dalla Napoli Sociale il servizio di trasporto dei minori disabili presso le varie strutture ed anche l'accompagnamento dei genitori in visita al carcere di Nisida.